Le chiamano le case del buco qui a Rancitelli a due passi dalla chiesa dei Santi Angeli Custodi. Nelle strutture abbandonate c'è di tutto, spaccio, prostituzione, immondizia ovunque e non solo qui nella zona di Rancitelli. Torna in strada Domenico Pettinari, candidato sindaco civico Pescara, per chiedere ancora una volta un aiuto alle istituzioni e con i residenti manifestare la solidarietà al parroco Don Max, autore di tante battaglie con Pettinari contro il degrado. E oggi Don Max è ancora una volta il prete che sta in un avamposto, possiamo dire, all'interno del quartiere più pericoloso di Pescara e non ce la fa più. Don Max ha lanciato un grido alle istituzioni dicendo che ogni sera, ho verificato io perché ieri sera stavo qui alle due di notte a pattugliare, mi lascio il termine anche alla zona e ho visto tanti tossicodipendenti buttati sulla panchina a fumare crack. Quella è una droga pesantissima che ti devasta e quindi Don Massimiliano se le vede ogni sera davanti al suo sagrato della chiesa, poi queste sono persone che esercitano anche violenze, diventano aggressivi, rendono invivibile la zona. Ecco allora questo è un quartiere che va davvero bonificato tra prostitute, quelle ragazze purtroppo anche giovanissime che vendono il proprio corpo per qualche spicciolo per poi andare a comprare la droga. Abbiamo degli scheletri, quelli che io chiamo stanze del buco dove si vanno ad accampare per drogarsi, le piazze di spaccio vicinissime, qui siamo a 200-300 metri dal cosiddetto Ferruccio e dal cosiddetto Ferretto in via Lago di Capestrano dove si acquista droga tutte le ore del giorno e della notte. H24 utilizzano le case popolari come botteghe della droga. Ecco questa è una cosa vergognosa, le case popolari vanno date ai cittadini onesti, i cittadini bisognosi, coloro che ne hanno davvero diritto e significa noi abbiamo anche fatto un monitoraggio, abbiamo visto che alcuni di questi occupanti, tra l'altro abusivi, incassano con lo spazio di droga fino a 4.000 euro al giorno. Pettinari ribadisce le richieste già fatte più volte alle istituzioni per cambiare una situazione diventata insostenibile. Uno, l'amministrazione comunale di centrodestra che tra l'altro governa anche la regione, il governo centrale, istituire l'operazione strade sicure, cioè portare qui militari come ci sono in altre città italiane, due militari e un poliziotto, due militari e un carabiniere. Due, applicare la legge 96-96 di Regione Abruzzo per fare un censimento millimetrico di tutte le case popolari, coloro che non hanno diritto devono essere sbattuti fuori. E poi attenzione, vorrei che le polizie amministrative entrassero in tutti i bar e i circoli della zona, perché vanno attenzionati, perché vogliamo capire bene cosa si fa, cosa non si fa e se ci sono anche determinate autorizzazioni necessarie e quant'altro. In questa zona ci dice Don Max, un grido disperato, erano 10.000 persone, siamo arrivati a 3.000 persone.